La vittoria del cuore di chi non molla fino al novantesimo. Bastano queste parole per descrivere il pareggio per uno a uno strappato dal Givi Borgo sul campo dello Scandici nell'ottava giornata del campionato di Serie D. Sfida tra due squadre che navigano nella parte bassa della classifica ma che meriterebbero posizioni migliori. Nel primo tempo sono i locali a fare la partita e alla prima occasione su un veloce contropiede infilano la difesa ospite. Papini serve un assist al bacio per Bencini che a porta vuota non può fallire. Nella ripresa strada subito in salita per il Givi Borgo perché al diciassettesimo Russo si prende il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. La squadra di Fanani ha però il merito di crederci e di resistere agli assalti dello Scandici che in più di un'occasione va vicino al gol che potrebbe chiudere la partita. Il match sembra deciso quando anche Angeli si fa espellere. Costretto in nove il Givi Borgo rischia grosso su un contropiede e su una scivolata al limite del fallo di Mei. Poi viene graziato da Saccà che quasi a porta vuota calcia malamente al lato. Gol sbagliato, gol subito recita un adagio del calcio e buon per Borgio e compagni che questa volta si avvera sugli sviluppi di un calcio di punizione. Pane aggancia in aria e fa secco Micheli. Uno a uno e quarto risultato utile consecutivo per il Givi Borgo che con un cuore così può fare tanta strada.